fare turismo 2019 continuano i colloqui siamo nello stand della Raeli Hotels siamo con Francesca Cenci ciao buongiorno ciao buongiorno buongiorno noi vogliamo sapere visto che ci sono i ragazzi fuori descriviamo un po quello che accade qui all'Università Europea di Roma una location in queste tre giornate non scelta a caso l'abbiamo detto perché si parte dall'Ateneo si parte dalla formazione fuori ci sono i ragazzi che stanno facendo i colloqui faranno i colloqui un po agitati e quindi stiamo cercando di capire le varie aziende hotel hotel erica atene alberghiere che cosa cercano quali figure professionali cercano e che cosa si va a vedere poi all'interno di un colloquio allora la nostra azienda ha diversi profili in selezione diciamo quella più richiesta è quella del receptionist e ai ragazzi la classica domanda insomma la prima domanda che gli si fa ovviamente sono le lingue straniere e la formazione perché comunque al giorno d'oggi la figura del receptionist deve avere una formazione di base quindi titolo almeno almeno il master uno stage sicuramente per avere un contratto se si ha ovviamente il titolo di studio o un master si propone anche uno stage che sicuramente al giorno d'oggi è un'ottima opportunità per entrare nel mondo del lavoro perché cala nella realtà lavorativa il ragazzo e quindi ovviamente masterizzati quindi masterizzati masterizzatevi ma sicuramente predisposizione al sorriso anche un buono standing perché comunque il receptionist è il biglietto da visita dell'albergo quindi comunque stare dietro al banco ovviamente sicuramente una una persona ordinata e sorridente è un è un ottimo impatto per il cliente che che entra in albergo ecco ieri sono stati anche sono state date delle indicazioni per esempio su chi ha tatuaggi cose di questo tipo soprattutto per chi lavora al desk di un hotel è stato detto c'è un ragazzo si è fatto un tatuaggio sul collo e sta spendendo un capitale tutto il suo stipendio in cerotti cosa vogliamo dire ai ragazzi che magari vengono vestiti un po street sì di fare attenzione perché diciamo il mondo alberghiero ancora dei suoi diktat a cui non non transige tra cui sicuramente orecchini anelli piercing tatuaggi a vista in alcune realtà non vengono tollerati quindi se sono un rasta e voglio fare lo chef in cucina può darsi che è un po in difficoltà ma con il cappellino sicuramente adeguato da hccp si può stare tranquillamente e allora grazie buon lavoro grazie a voi grazie a voi e in bocca al lupo a tutti i ragazzi di atto mi associo ciao ciao ciao